Sì, noi siamo ancora qui appostati davanti, e qui stanno arrivando tutti i senatori. Direttore, lì c'è Zaia, il Presidente Zaia, noi rimaniamo qua a documentare, ma insomma stanno arrivando tutti... Sì, anche quei due che ci sono sempre. Facciamoli vedere un attimo, così sono contenti e per oggi risolviamo il problema dei due. Esatto, ecco, Mauro... Ecco, faccieli vedere. E il rosso abbiamo fatto. Ecco, fai vedere anche il rosso. Mentana, Presidente, mentana, Presidente. No, 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 faglieli vedere. Indicazioni. L'abbiamo fatto, eh, posto, ciao, aggiudicato. Aggiudicato, ecco, e con te fanno tre, adesso andiamo da... Ora passiamo a posto per tutto il giorno. Allora, ehm... No, loro, se vuoi fai con loro il collegamento. Senti Paolo, tu sei lì dalla prima mattinata, in realtà, ti abbiamo lasciato ieri sera, sei lì dalla prima mattinata. E la...